Fortunato De Pero, un futurista tra arte e cucina, un percorso tra opere e documenti attraverso il quale il Mart e l'archivio del Novecento hanno accettato di collaborare con l'Istituto Italiano di Cultura di Mosca in relazione alla settimana settimana della cucina italiana nel mondo. Si tratta di un percorso sintetico ma intenso attraverso un'esplorazione del fondo De Pero al Mart su questo tema, sul tema della cucina. Dal Mart vi sto parlando della sala conferenza del museo, un museo che raccoglie all'interno dell'archivio del Novecento più di 80 archivi di personalità dell'arte a partire dal fondo De Pero. In particolare sono artisti futuristi ma che trovano in De Pero il genius loci della città che decise alla fine della sua vita di donare un patrimonio, attraverso un lascito, un patrimonio di migliaia di opere e di documenti. Lo vediamo, vediamo l'archivio nel piano interrato del museo in questa prima slide che che propongo. E un'altra sede del Mart è la casa d'arte futurista De Pero, per cui è l'occasione davvero di indagare la vita dell'artista attraverso questo tema che ricorre effettivamente tra opere e documenti. Ma per un pubblico che non conosce l'artista dobbiamo necessariamente intrecciare a questo percorso alcune vicende che hanno caratterizzato la sua vita e lo hanno reso uno degli artisti futuristi più importanti e più interessanti. Casa d'arte De Pero, appunto, in questa slide è il sogno che l'artista corona alla fine della sua vita attraverso questo, come dicevo, lascito alla città, con in cambio il desiderio che la stessa città potesse rendergli omaggio attraverso la costruzione di quello che all'epoca era il primo museo futurista d'Italia, di cui vediamo una visione della sala chiamata Rovereto, in cui De Pero dedica alla sua città questo ambiente. Ma appunto partiamo con le prime indicazioni della vita di De Pero, artista che nasce nel 1892 a fondo, era un piccolo paese della Val di Nonne, in Trentino. All'epoca il Trentino, fino alla fine della prima guerra mondiale, costituiva la provincia più meridionale, più a sud dell'impero austro-ungarico nella quale però si parlava italiano. De Pero vive in questo contesto, quindi gli anni che vanno dall'infanzia fino alla maturità e avverte però il desiderio di superare un clima piuttosto stagnante che caratterizzava il campo artistico e culturale. Il riferimento di molti artisti dell'epoca, sicuramente quelli più votati all'avanguardia, era l'Italia. Perché nella prima metà degli anni dieci il movimento futurista a Milano e a Roma, lavorava per un superamento delle tradizionali gerarchie artistiche e per far sì che l'arte potesse effettivamente intrecciarsi alla vita, alla quotidianità. Per questo De Pero, dopo intorno al 13, sente la fascinazione per il futurismo e il desiderio di avvicinarsi anche fisicamente all'avanguardia. Per far ciò deve inevitabilmente oltrepassare il confine ed entrare in Italia. Va a Roma, entra in contatto col futurismo e per poi tornare a Rovereto nel 14. Organizza una mostra a Rovereto, poi a Trento, a pochi giorni dallo scoppio del primo conflitto mondiale. Si ristabilisce poi nel 15, quindi a Roma e scriverà questo manifesto futurista dell'universo con Giacomo Balla. E davvero è un manifesto che preannuncia, dicevo, il desiderio di estendere l'esperienza artistica alle più disparate discipline, ben oltre a quelle canoniche della pittura e della scultura, abbracciando anche la pubblicità, le arti decorative applicate, l'arredamento, la moda. Il futurismo infatti proporrà interventi in campi prima non toccati dall'arte e anche la cucina anni dopo sarà tra questi. Quindi De Piero viene ufficialmente inserito nel movimento futurista e dopo la scoppia della guerra deciderà di arruolarsi tra gli italiani e vivrà un paio di mesi la terribile esperienza del fronte. A fine agosto, dopo quindi ad esempio questa fotografia che lo ritrae in una osteria romana, sorseggiando del vino, a fine agosto torna dal fronte ma annuncia alla moglie un dettagliato programma quasi al minuto per passare insieme il primo pomeriggio, la prima serata, insieme dal ritorno dal fronte. E i riferimenti più ricorrenti sono quelli proprio legati al cibo per ritemperarsi dalle fatiche inaudite e dalla enorme fame provata e patita. Cosa dice? A Rosetta scrive Rosetta, moglie, una storia d'amore infinita, ore tre del pomeriggio prendere uno spuntino, un bicchierino di vermouth con biscotto leggerissimo e basta. Ore quattro, dalle quattro alle quattro e un quarto, caffè, latte, burro e biscotti. Tra le cinque e le sei, passeggio, pasticceria, biarreria. Ore sei, sette e un quarto, preparare la cena. Dalle otto alle otto e mezza, cena lenta e rara. Dalle otto e mezza alle dieci, uscire, bottiglieria, biscotti e caffè. Quindi veramente un momento per rigenerarsi, ritemperarsi e poter finalmente mangiare e in cui il cibo appunto è ricorrente, soprattutto i dolci. Ed ecco un taccuino che contiene fotografie tra le più celebri di De Pero, legate al periodo romano, ma una di queste, bolletta romana, ci dice della testimonia davvero della fame, patita delle condizioni precarie dal punto di vista economico. Nel XVI allestisce una mostra con più di 200 opere nella Capitale e nel linguaggio è completamente astratto, sia nella pittura, sia in queste tavole parolibere, queste nuove esperienze, nuova modalità di scrittura verbo-visuale, tra scrittura e immagine, come fossero delle poesie da guardare o dei quadri da leggere, vedete? Ma per farvi capire la frenesia del lavoro di De Pero in questo momento. Il XVI è un anno cruciale per l'artista, che segnerà tutta la sua arte a benvedere, grazie all'incontro con Diaghilev e il lavoro per i balletti russi che gli viene commissionato nel novembre di quell'anno. Si tratta dell'esecuzione della scenografia plastica e di 35 costumi per l'opera Alexandre Rossignol, la fiaba di Andersen, musicata da Stravinsky, che è in programma per la primavera del 1917. Questa collaborazione introduce De Pero all'ambiente proprio dei balletti russi e quindi collabora, inizia a collaborare con Leonid Massin, coreografo e ballerino, stringe amicizia con Larionov, che anni dopo sarà accusato di plagio dallo stesso De Pero per avergli sottratto delle idee, dei bozzetti di costumi teatrali. Vediamo il bozzetto, o meglio la costruzione, una fotografia della costruzione, una parte di costruzione di questa scenografia del 1916 con indicazioni manoscritte da De Pero e poi a destra la grande scenografia ricostruita che fa parte delle collezioni, un'opera in collezione al Mart, che è stata riallestita recentemente in occasione di una grossa mostra su De Pero, di cui poi accennerò successivamente. Scrive De Pero, in questo momento un geniale impresario teatrale si impone fra tutti, ha raccolto il fiore del teatro russo, scenografi, ballerine, ballerine. A differenza di altri, Diaghilev, con maggior coraggio e con mente più aperta, estende le sue esibizioni sceniche alle risorse internazionali, chiamando a sé pittori e poeti francesi, musicisti e scenografi spagnoli, soggetti e artisti italiani. Sceglie dall'arte antica all'arte moderna fino all'estrema vanguardia. Nel 16 si trova in Italia in cerca appunto di collaboratori. Nel 16 mi trovo ancora nello studio di balla assieme all'amico Semenov, che a sua volta mi presenta il noto impresario teatrale, il quale si trova a Roma per organizzare questa stagione di balletti russi. Anzitutto darà un concerto per soli inviti del maestro Stravinsky al Grand Hotel. Anche io ricevo l'invito, ma sono preoccupato perché mi manca l'abito di gala di sera e cerco di qua e di là fino a che un mio amico mi regala un paio di pantaloni rigati. Ti accetto volentieri, nonostante l'inconveniente, che abbiano una gamba più corta dell'altra perché l'amico era zoppo. Un secondo amico trova in fondo al baule un frac così imbastito mi presento al grande evento. Salone dove splende molto lusso di luci, di donne e uomini, di celebrità italiane e straniere. C'è Boccioni, Marinetti, Rodin arrivato da Parigi, Leon Baxt, il mago della scenografia, Maestro, vice Picasso, Cocteau, Stravinsky, che porta occhiali d'oro tenuti da un grosso cordone e lo descrive. Colgo l'occasione, dice, per avvicinare critici, conoscere artisti, autorità e signore, nonché per godermi, ecco qui che entra il cibo, un ottimo banchetto in quei tempi di magra, a base di panini ripieni di dolci, per assaporare vini preziosi, liquori rari e le cornie ignote. Dove ci sono i russi, oltre alle belle donne e all'arte c'è immancabile lo sfarzo imbandito, dolciumi e cibari e scelte, vodka e spumanti, caviale e brindisi. Al loro contatto indubbiamente si respira un'aria di sagra mondana, di gioia e di vivere e di passione per l'arte. Quindi De Pero, anche in questo caso, riesce a rifocillarsi in un ambiente di grande elite artistica, se vogliamo, di eccezionalità. Ma dopo il 18, che lo vedono lavorare sempre nel mondo del teatro, con la realizzazione dei balli plastici, torna nel 19 a finita la guerra, quindi a Rovereto. Una Rovereto distrutta dal conflitto, ma proprio sulla scia, in realtà, di questa scenografia, che poi non era andata, non aveva avuto, ahimè, esito, era arrivato pur con settimane fibrili di lavoro per pochi giorni, che gli mancavano all'appuntamento, alla scadenza della consegna. Così narra la storia. De Pero viene, si viene rifiutata il progetto e tutto il lavoro. Con gran parte di questi tessuti di pannolenci che ancora conservava, così narra la storia, ha idea, da una parte, di fondare il laboratorio, una casa d'arte futurista, specializzata in, proprio in tarsie, oltre alle altre cose. Lavorazione di, appunto, tarsie policrome, attraverso le quali realizzare arazzi, cuscini, arazzi di piccole, medie o grandi dimensioni. ecco una foto del cosiddetto laboratorio, che poi verrà definito Casa del Mago, appunto per questa creatività incredibile dell'artista, che lo vedono, tra l'altro, in questa fotografia, insieme alla moglie Rosetta, la prima figura femminile sulla destra. Una di queste tarsie, tra l'altro, viene studiata per il cabaret del diavolo. Siamo nel 1921, quindi progressivamente in questo percorso andiamo avanti, cronologicamente, negli anni. Il ballo dei diavoli, creato, appunto, per il cabaret del diavolo. Era un locale, nei sotterranei di un albergo, a Roma, con un servizio di American Bar. Lo allestisce, appunto, all'inizio degli anni venti, attraverso la creazione di tre ambienti che si sviluppano in profondità, dal paradiso al purgatorio fino all'inferno. Sono rare le fotografie dell'epoca, ovviamente in bianco e nero, che non restituiscono l'esuberanza del colore, in cui però troviamo allegre brigate, così erano definite, brigate diaboliche di intellettuali e artiste che prediligevano l'ultimo locale, quello dell'inferno, per far festa, per discutere d'arte e anche di politica. Ecco alcune fotografie di questi ritrovi o banchetti. Esiste, l'archivio De Pero conserva il menu addirittura dell'inaugurazione del locale, siamo nell'aprile del 22, ed è curioso perché è scritto il menu in lingua francese. Viene composto per l'occasione addirittura un vocabolario, appunto, infernale per la lista delle consumazioni, dove compaiono bevande come l'infuso sintetico di grignatorio, la melma bruna, il fuoco liquido, il fuoco e lo zolfo, lo stige, sono tutti cocktail che hanno a tema appunto il riferimento a quello del proprio del locale dell'inferno. Il menu, appunto, vi dicevo, è in francese, scritto in francese perché era comunque la cucina dell'epoca, il riferimento era quella legata alla Francia, la capitale indiscussa dell'alta cucina. Ma tra i vini, ad esempio, non manca il gran spumante cinzano accanto al Chianti. Questa fotografia, un'altra sala del Museo de Pero, della Casa d'Arte Futurista de Pero, per mostrare alcuni capolavori di queste tarsie e far capire come, grosso modo in questi anni, l'artista realizzi opere di grandissimo impatto visivo e rivoluzionario. Così come il campo della decorazione di ambienti, di locali, in particolare di bar, continua. Questo è il bar del Grand Hotel Bristol di Merano, purtroppo, completamente andato perduto. Vedendo l'iconografia dello sfondo di queste decorazioni, che poi muta, De Pero muta, nel campo della pubblicità. A partire proprio dal 24, De Pero inizia a lavorare per svariate ditte. E questo esempio, per mandorlato, il mandorlato Vido, appunto, muta questa figura di cavaliere piumato da un repertorio, se vogliamo, che ritroviamo nel Grand Hotel Bristol, mentre questi torroncini appaiono come dei mattoni tratti dalla campagna pubblicitaria per la Verzocchi, che era una ditta, appunto, di mattoni refrattari, per la quale, proprio in quest'anno, De Pero inizia a lavorare. Ma, di nuovo, questo intreccio tra, ad esempio, linguaggi diversi, in questo caso il mondo del teatro, l'esperienza dei balli plastici, la creazione di queste figure di selvaggetti, di questi automi, che De Pero porta nel campo della pubblicità. In questa copertina di citrus, questo succhiatore di limonata, con colori assolutamente vivaci, impattanti, l'utilizzo del fuoriscala dimensionale tra oggetti diversi, questa modalità ironica del descrivere la realtà e trasformarla in chiave fantastica. E vedete, appunto, è sempre una selezione che ho tentato di fare in riferimento a questo, all'ambito del cibo. Queste copertine rimandano alla collaborazione con la camera agrumaria di Messina. Di nuovo l'oggetto e la sua, in qualche modo, antropomorfizzazione. De Pero, appunto, in Sicilia arriva nel 1926, compie un viaggio per decorare, l'ha sostanzialmente invitato da un amico, Iannelli, affinché potesse decorargli una sua villa. E questa esperienza ruota spesso attorno al cibo, perché De Pero, oltre al paesaggio, alla fascinazione dell'isola, racconta alla moglie, così come è testimoniato da alcune lettere inviate dalla Sicilia, appunto, l'esperienza culinaria. Siamo nel settembre del 26, ed esempio scrive, ieri sera mangiai un piatto specialissimo siciliano, la caponattina, melanzane più peperoni ardenti, più capperi, più olive tagliuzzate, più ova sode, più provola, specifica che si tratta di un formaggio, tra parentesi, più aceto, più cipolle. Vedete questa scrittura anche sintetica, tipicamente futurista, il più è il simbolo matematico. Ti lascio indovinare il mille sapore vulcanico lavico di questo piccante piatto terremotico. Mangio tutto alla siciliana, annaffiato con vini dolci forti, con abbondantissima uva meravigliosa, chiamata Cuore di Colombo, specie di pizzuttello. In un'altra lettera, di pochi giorni dopo, scrive faccio delle scorpacciate di uva, pesche, ficchi, mandorle, nocciole e pere. Ma al cibo proprio dedica uno scritto, vassoio siciliano, paesaggi, figure, sapori e preghiere, e un paragrafo si intitola appunto A tavola, ed è straordinario nella descrizione del cibo. Racconta che il pesce predomina, profumato e a profusione, fritto, lesso, triglie in padella con il pan grattato, nasello alla palermitana, col delizioso profumo di rosmarino, filetti di sogliole abbondantemente pepati, con prezzemolo e fritti nel vino bianco dell'Etna. Ritorna sulla caponattina e poi il vino bruno, ruggine, 18 gradi, vero succo di vulcano, poi fichi d'india, stradolci e spinosi, dolce e vaniglia, torte con pinoli, mandorle, nocciole, pistacchi, mostarda e via dicendo, gelati di limone, spumoni, macedonia e cassate, famosissimi in tutto il mondo, cucina e tavola dove i succhi e i colori eruttano tutte le loro forze più piccanti e via dicendo. In un altro paragrafo, Fiera racconta, descrive una sagra paesana che lo colpisce per il rumore, il colore, i sapori e gli odori. Ci sono asinelli, tori, lucerne e suoni di tamburelli e nacchere e per lui questo futurista così affascinato dall'elemento colore, dal gioco, dalla festa, è un paradiso tutto ciò. De Pedro parla di pesci che saltano nelle padelle, maiali squartati e messi in mostra con sezioni sanguinolenti, costole, spalle, lombi, selle, piedi, culacci, petti, rotelle e via dicendo, proprio i particolari di queste carni. Montagne di carne cruda e cotta, maialini allo spiedo, festoni decorativi di salsicce, i fumi delle carni che arrostiscono. Non aveva mai visto evidentemente nulla di simile questo rapporto col cibo così forte e queste pietanze nuove per lui. pentole che bollano, fornelli che fumano, bilance che pesano, lunghe decorazioni sui muri fatte con tutte le forme di pane e via dicendo. Tornato alla tranquillità domestica, all'esempio comunque ritrae ambienti interni, questi valori plastici della cucina, della sua cucina nel 1926, trattato in modo però dinamico. ecco che tra il 26 e il 27 il lavoro inizia a essere preponderante, quello nel campo pubblicitario e soprattutto per la ditta che forse viene associata più frequentemente al nome di Depero, che è la Campari. La Campari è alla famosa bottiglietta conica, alla quale sembra alludere questo logo Depero futurista, se ci pensiamo, seppur qui in una veste più trapezioidale. Le tecniche anche di realizzazione dell'opera figurativa e pubblicitaria sono svariate, il collage è una di queste e questo è un vassoio per pubblicitare appunto l'aperitivo Campari. Campari in realtà nell'archivio Depero si è testimoniato il rapporto proprio col titolare della ditta, Davide Campari, un mecenate, se vogliamo un industriale illuminato che è una figura di sintesi tra spirito imprenditoriale progressista e messaggio artistico, nel senso che è una figura che crede fortemente al potere comunicativo di artisti e di artisti soprattutto che lavorano nel campo grafico e sceglie Depero, fra altri, per avviare una campagna massiccia di pubblicità, nelle forme più svariate che poi vedremo. Ad esempio appunto la pubblicità Campari può avere anche forme monumentali. Questa foto tratta dall'archivio Depero, incollata dall'artista su uno dei suoi quaderni, rimanda al 1925 Depero è a Parigi aveva partecipato, soggiorna a Parigi per diversi mesi partecipando all'esposizione internazionale delle arti decorative industriali e moderne viene premiato con ben due medaglie d'oro per gli arazzi e collage una medaglia d'onore per la sezione arte della via una medaglia d'argento per l'arte e l'industria del legno una medaglia di bronzo per i giocattoli per cui espone una grandissima quantità di opere e della produzione della casa d'arte e davvero riceve queste grandi quantità di premi è arrivato il successo internazionale la soggiornando a Parigi realizza anche appunto nel campo della pubblicità questa tra le arte pubblicità in grande scala per la Campari e ho provato a rivedere come appare al giorno d'oggi questa piazza si tratta della Place Blanche proprio quella del Moulin Rouge di fronte, sostanzialmente questa veduta che ci mostra com'è attualmente la piazza ma per capire per vedere innanzitutto una foto di De Piero grosso modo all'epoca e di nuovo questo intreccio tra arte e quotidianità tra autoesaltazione l'artista che si mette in mostra attraverso i prodotti della propria creatività abbiamo una foto di De Piero celebre e Marinetti fondatore e capo del futurismo che indossano entrambi i panciotti creati dalla casa d'arte accostata appunto a un'altra foto che ritrae De Piero Giacomo Balla e gli annelli sulla tour Eiffel appunto a Parigi nel 1926 nel 27 il 27 è l'anno del capolavoro editoriale di De Piero il proprio biglietto da visita il libro imbullonato cosiddetto libro imbullonato libro macchina diverse pagine di questo capolavoro editoriale sono dedicate alla Campari sono dedicate alla Campari e in questa esaltazione anche della figura dell'industriale che è il nuovo mecenate del mondo contemporaneo gli industriali che possono capiscono che finanziando gli artisti riescono ad avere delle campagne pubblicitarie di eccellenza ecco e non a caso accanto a parole che rivandano a grossi grosse industrie dell'epoca Fiat Fiat Alfa Romeo ad esempio c'è anche quella a carattere maggiore del bitter Campari quindi di nuovo un prodotto di consumo che diventa un'icona incorniciato in questa forma tipografica innovativa una delle pagine appunto interne del libro imbullonato un'altra pagina ritrae a colori in questa tricromia il pannello squisito al CELS o meglio che De Piero definisce quadro pubblicitario non cartello un'opera innovativa presentata esposta alla Biennale d'Arte di Venezia del 1926 la pubblicità che entra nella sede per antonomasia dell'arte internazionale l'esposizione la Biennale di Venezia appunto con un quadro un pannello pubblicitario l'opera purtroppo in questa nella sua forma originale è andata perduta ma ci sono delle fotografie dell'epoca dell'allestimento della Biennale che lo ritraggono la ritraggono è appunto una carrellata di tavole di pagine completamente dedicate a queste pubblicità per la Campari che sia nei due prodotti il cordial il liquore e il bitter i due prodotti della Campari appunto vengono entrambi idolatrati da De Piero in queste pubblicità se la pioggia fosse bitter Campari è una delle più celebri questa appunto riscrittura della realtà in chiave surreale ironica e fantastica di nuovo il bitter Campari diventa esso stesso un un idolo un idolo di di questo prodotto per conviviale per momenti di relax e di festa le piccole pubblicità Campari che anche appunto di piccole dimensioni riprodotte nei quotidiani dell'epoca colpivano il lettore e indirizzavano l'occhio proprio su questi bianco e neri di straordinario impatto visivo di nuovo il rapporto dimensionale sfasato il questo questa figura della stessa dimensione di questo calice di aperitivo e poi diventa la pubblicità si fa essa stessa giocattolo scultura sono queste opere celebri per la Campari sintetiche fatte di solidi semplici questo è un bevitore di nuovo abbiamo visto per Citrus De Pero è solito riciclare le proprie trovate pubblicitarie e in questo caso appunto questi elementi intercambiabili di solidi semplici permettono questa riscrittura questo riciclo dell'idea e a questo proposito è lampante questo esempio che la figura della scimmietta per la Campari si ritrova la ricicla De Pero negli Stati Uniti in questo soggiorno di cui poi parliamo intorno al 1929 in una copertina di Verity Fair altre foto lastre fotografiche dell'archivio che mostrano anche un altro un'altra scultura pubblicitaria della Campari in cui davvero ormai la bottiglietta è quasi ormai ideata da questo nelle forme di questo bevitore una foto di De Pero appunto dell'epoca che con questo sguardo diabolico ci rimanda questa creatività a tutto campo è di questo periodo 1927 28 sono di questo periodo una serie di tacquini che raccontano e testimoniano il modus operandi dell'artista il modo in cui schizzava idee in modo frenetico minuto dopo minuto fissava l'idea che poi elaborava con più calma si tratta di forme semplici per una serie di diverse ditte non solo la Campari ma poi ad esempio la strega ditta di liquori tuttora esistente oppure ci sono ditte di dolci fago unica che poi vedremo e poi appunto l'indicazione dell'effettiva o meno realizzazione del soggetto queste scritte fatto o meno spesso questi disegni venivano questi schizzi venivano depennati a testimoniare lo scarto di idee poi abbandonate la scritta le frasi ironiche come queste tutte le notti carico la sveglia per prendere un bitter Campari oppure con un occhio vidi un cordial con l'altro un bitter Campari quindi l'ironia che caratterizza e il divertissement che caratterizza l'artista per l'epoca non affatto scontate ecco qui si può vedere un esempio di questi tacquini aperto sulla pagina che pubblicizza le caramelle unica e alcuni casi coevi di pubblicità se vogliamo più passatiste questo termine usato dai futuristi per connotare invece artisti legati a un'arte più è una figurazione più tradizionale vedete forse l'efficacia comunicativa minore se vogliamo ovvero l'occhio che deve soffermarsi sui particolari leggere per arrivare poi al messaggio De Pere invece rispetto a queste proposte dell'epoca è molto più sintetico e decisamente forse più incisivo di nuovo Bitter Campari proposte di altri grafici dell'epoca con linguaggi meno audaci sicuramente questo questo invece è De Pero che arriva a soluzioni definitive per unica questa ditta che nasce nel nel 24 vedete gli anni sono grosso modo gli stessi per cui il lavoro è infernale che poi verrà dopo dieci anni fusa con l'attuale Venchi che produce cioccolato ma di nuovo la antropomorfizzazione di elementi in questo caso biscotti per la unica siamo nel 28 ci spostiamo quasi a ridosso della partenza di De Pero per gli Stati Uniti d'America e quindi il lavoro è febbrile proprio per consentirli di alcuni guadagni per permettergli un viaggio molto dispendioso anche la l'orientamento la ripetizione di elementi formali nello spazio che risultano soluzioni molto accattivanti per per l'occhio oppure di nuovo il l'intreccio di non sense e realtà l'uovo è l'uovo quello appunto della gallina ma è anche l'uovo di Pasqua l'uovo di cioccolato che la unica naturalmente produceva e su questo attraverso questa questa bivalenza De Pero realizza delle campagne delle tavole pubblicitarie come questa ad esempio l'uovo a sorpresa con i pulcini oppure questa che in cui dall'uovo di Pasqua fuoriesce di nuovo una delle sue più tipiche creazioni meccaniche questo burattino automa a scatto a sorpresa pubblicità talvolta inedite celate nascoste sul verso degli incarti con cui De Pero ricicla e protegge le proprie lastre fotografiche in archivio che sono state poi scannerizzate e abbiamo provato a riunirle a pezzetti e vedete si possono intravedere tavole pubblicitarie in questo caso di nuovo per la unica con il rimando ai colori che le varie campiture dovevano contenere sono particolarità che l'archivio conserva ma di nuovo la l'efficacia nel connotare in qualche modo la finalità del prodotto che si va a pubblicizzare in questo caso una semplice forma a doppia S per sintetizzare l'apparato digerente e il prodotto la magnesia San Pellegrino in questo lavoro pubblicitario di grande ironia ed efficacia ecco poi De Pero si adegua anche chiaramente al target di pubblico nel 28 questa locandina per una mostra a Trento quindi per un pubblico più largo forse meno propenso al confronto con l'arte d'avanguardia però realizza comunque pubblicità che rimandano a ciò che viene pubblicizzato in questo caso una mostra di vino legata al vino e a fini la la corrispondenza con Campari ad esempio è intrecciata a quella con i futuristi a partire naturalmente da quella con Marinetti lo scambio epistolario è molto frequente proprio a ridosso della partenza per gli Stati Uniti è un lavoro incessante la scarsa dimestichezza di De Piero con l'inglese prima di in procinto della traversata oceanica lo obbliga in qualche modo a provare a imparare iniziare a imparare qualche termine d'inglese qualche frase e realizza questo dizionario visuale da cui ho tratto questa tavola è un documento realizzato per sé personale però comunque di grande comunicazione e di grande anche ironia in cui De Piero traduce gli oggetti con i termini appunto inglesi per provare a memorizzarli in modo più semplice De Piero arriva negli Stati Uniti a New York nell'ottobre del 28 ma già all'inizio del 29 allestisce una personale alla Guarino Gallery e qui rincontra Massin dopo 12 anni che ora lavora al teatro Roxy al Roxy Theater insieme ricordano l'esperienza del canto dell'usignolo Massin lo presenta a Leonidoff direttore del teatro ma quindi in realtà De Piero sembra introdotto ci sono tanti episodi che lo vedono introdursi nel tra figure di italo-americani grandi nomi anche di artisti o di in qualche modo mecenati collezionisti galleristi dell'epoca però gli affari insomma non decollano ancora tutt'altro per cui deve in qualche modo trovare delle strategie per poter vendere di più e a un certo punto ha un'intuizione nello scrivere a Marinetti che sta studiando un pranzo sto studiando un pranzo che offrirò nel mio studio ai giornalisti che si occupano di me che si sono occupati di me e del futurismo un pranzo italiano creato da Rosetta dice quasi solo americani la colonia italiana è quasi intrattabile e da qui scaturisce in realtà un'idea un lampo legato all'abilità in cucina della moglie che contribuisce a convincere i clienti più titubanti scrive un pranzo italiano è sempre gradito dagli americani seduce sempre in questo come in tutti i paesi e insomma la coppia in vita industriali galleristi critici d'arte mercanti e l'esperimento trionfa un brano celebre raccolto appunto nel brano lirico dal titolo I ravioli di Rosetta l'archivio de pero conserva questo appunto una delle trascrizioni di questo brano l'archivio de pero conserva numerosissimi e fenomenali resoconti dell'esperienza di de pero a New York che in gran parte sarebbero dovuti confluire in un libro New York film vissuto di cui in realtà resta solo restano solo dei menabò libro che poi non è mai stato pubblicato il progetto quello del legato al ritorno in Italia per poter pubblicare un libro che raccontasse l'esperienza americana anche attraverso addirittura la voce di de pero quindi un libro all'avanguardia dotato di dischi sonori accanto al alla carta al libro più tradizionale in allegato ci resta appunto questo menabò ad esempio e sono numerosi brani lirici che rimandano al cibo tra questi si possono citare ad esempio ristorante cinese in Broadway in cui de pero parla di piattini tazzine posatine minestrine fettine di pane biscottato tazzine di caffè di tè di acqua conchigliette di tritumi pizzicanti dischetti di burro pallottele di riso esagerato consumo di chincaglierie mutamento in interrotto di piatti e scodelle piccine cibo a pizzico musica a pizzico sensazioni a pizzico conversazioni a pizzico e sottovoce conto finale salatissimo somma di molti pizzichi pepati insomma de pero ha esperienza di queste cucine internazionali che non aveva mai provato prima e sembra che insomma quella cinese in questo caso non lo convinca più di tanto poi ci sono brani di nuovo divertenti come questo la questione vino la questione vino è legato alla sua così consumo quotidiano da buon trentino di del suo bicchiere di vino a pasto ed è legato al periodo proibizionista in America per cui dice spesso mi hanno domandato come facevi con il vino negli Stati Uniti di fatti per noi italiani tale domanda ha la sua giustificata importanza e logica curiosità rinunciare ad uno due bicchieri di vino ai pasti vorrebbe dire rinunciare alla completa degustazione del pranzo e della colazione appena arrivato a New York fra le tante mie preoccupazioni fu quella di assicurarmi un quartuccio di vino per ogni pasto a prezzo economico perché il vino a New York è un lusso quasi impossibile a New York ha inoltre proibito la vendita di bibite alcoliche e proibito il trasporto invece ha tollerato la fabbricazione del viso ad uso famiglia e quindi si ingegna acquistando dei barattoli di quella che era nominata Cali Grape cioè del mosto che a seconda una procedura particolare di fermentazione poteva arrivare a generare una sorta di vino o una parvenza di vino se non che De Pero non riesce ad aspettare le settimane necessarie la fermentazione e nel giro di pochi giorni in casa realizza questa mistura di improbabile vino e il brano è divertentissimo ma non abbiamo chiaramente il tempo di poterlo leggere così come un altro brano ha un titolo non sense De Pero si imbatte oltre ai film di attori celebri gli piacero molto le favole comiche inscenate da una compagnia di bambini attori De Pero facilmente allude alle simpatiche canaglie e ne descrive un episodio nel brano dal titolo non sense appunto torto polento ticcio pasto e insomma si tratta di delle simpatiche canaglie di bambini attori che devono improvvisare la piccola facendiera vuole improvvisare una grande torta per festeggiare i piccoli e amati amici della combricola in piedi su uno sgabello al fornello di cucina seguendo i dettami del suggeritore il piccolo dalla faccia scoppiettata di lentigini la bambina mescola ed impasta un inverosimile pasticcio in un pentolone tanto di burro tanto di farina tanto di lievito di cioccolata di sale di spezie di brodo mescolate sbattete friggete ebbene l'assistente cuoco correndo perde indicazioni sbaglia a dose confonde la preparazione di una salsa con quella di un dolce e mentre la bambina butta nel pentolone ogni grazia di Dio esce fuori dal da questo pentolone il ticcio pasto il polento vischio il cordo gommo torto cioè qualcosa di immangiabile ed è un episodio che ancora si può vedere tra quello delle simpatiche canaglie che rimanda a ciò che De Pero aveva visto proprio nel 1929 o probabilmente 30 a cui di nuovo festa di bambini strilli una tavola parolibera che rimanda al cibo a mozzarelle descritte come chewing gum per l'olfatto peperoni rossi grattugia la gola cocomeri spaghetti in questo linguaggio verbovisuale è una tavola parolibera di nuovo appartenente alle collezioni del Mart legate a questo periodo americano big sale di nuovo è il mercato di downtown fatto di venditori ambulanti che vendono cibi frutti ortaggi frutta ortaggi e quant'altro di cui il Mart possiede delle opere preparatorie ed è però negli Stati Uniti di nuovo lavora per la decorazione e l'allestimento di alcuni ristoranti il Paglieri e poi soprattutto il ristorante Zucca poco prima di tornare in Italia in poche settimane riesce ad allestire la decorazione di questo ristorante con di nuovo pietanze e piatti che fanno da soggetto di queste opere di decorazione parietaria di nuovo pubblicità in questo caso per The New Yorker che rimandano il riciclo di nuovo dell'idea ritroviamo se vogliamo i biscotti che abbiamo visto per la unica prova De Pero lavora di nuovo per la Campari anche a New York vorrebbe realizzare delle campagne pubblicitarie per la ditta per l'esportazione di questi prodotti negli Stati Uniti creando proprio anche un bar Campari costituito da architetture pubblicitarie e infatti c'è il tutto da consegnare al commendatore Campari entro l'anno 29 nel 28 però poi parte per gli Stati Uniti e tutto ciò verrà ripreso successivamente cocktail al diciassettesimo piano altri brani che vedono De Pero in questi parti sui grattacieli di New York in cui il cibo e i banchetti sono il soggetto più ricorrente per poi tornare in Italia e dedicare di nuovo alla Campari addirittura un volume un libro pubblicitario il numero unico futurista Campari creazione De Pero di nuovo la pubblicità che si fa padiglione pubblicitario così raffigurato tra le pagine di questo libro ecco in cui l'iconografia dei grattacieli di New York viene recepita e portata in Italia questo bagaglio esperienziale di una città che lo ha che ha lasciato il segno per l'artista questa esuberanza di forme di folle che lo colpiscono e da cui in realtà torna piuttosto provato per le fatiche e qui una serie di pubblicità dei primi anni 30 sempre per la Campari paesaggio quasi tipografico il futuro ecco e arriva proprio a realizzare una sorta di manifesto dell'arte pubblicitaria che pubblica in questo volume in cui annuncia che l'arte dell'avvenire sarà potentemente pubblicitaria siamo però nel 1931 e quindi capiamo quanto fosse preveggente il pensiero dell'artista le cui opere iniziano a essere pubblicate su Futurismo rivista di Minos Omenzi e addirittura in un momento in cui nel 1932 viene pubblicato da Marinetti e filia un volume proprio sulla cucina futurista che De Pero recensisce e che in qualche modo gli darà l'idea egli stesso è un libro che conteneva ricette futuriste di proporre delle ricette da lui firmate che compaiono nel 1932 ad esempio in questo banchetto futurista di De Pero in Romagna propone come aperitivo una coppa di brividi o tra i piatti questa sigaretta dimenticata in bocca d'aglia che caratterizzeranno e verranno poi pubblicate su Futurismo Cucina futurista per il 1933 delle ricette talvolta improbabili di cui abbiamo anche gli originali grafici nelle collezioni del Mart questo è un dolce il biscotto di Natale ma poi abbiamo una coppa appunto la coppa di brividi aperitivo futurista fatta di vermut e cognac decorata da patate fritte alla base del calice e tanti altri elementi la cucina futurista che deve essere il cibo deve essere un momento anche estetico un'esperienza estetica sensoriale dinamica quindi va riscritta la cucina sostanzialmente per i futuristi e qui gioca su l'elemento il fiore d'aglia e il nome stesso di persona in questa ricetta d'aglia dimenticata in bocca a d'aglia oppure delle bandierine di prosciutto infilate su una pera olive acciughe il dolce salato quindi tipici del mescolamento della ricetta della cucina futurista che anche De Piero inizia a proporre sono chiaramente anche spesso provocazioni ma occasioni per in qualche modo creare arte anche attraverso il cibo di nuovo la pubblicità Campari prosegue questa è la quarta di copertina del numero unico per l'arrivo di Marinetti nel Trentino nel 32 che si ritrova in questo tavolo in Buxus costituito da questi pesci Buxus è questo materiale autarchico definito così da Vli Piero fatto di una pasta di carta e segatura per creare appunto colorato per creare queste tarsie linee in un momento di autarchia del prodotto di materie prime quindi siamo nella prima età degli anni Trenta altre opere per Campari che la campagna che prosegue fino al 36 quando Davide Campari il titolare morirà per poi De Pero avvia in realtà ripiega su iconografie più domestiche meno l'avanguardia una figurazione più tradizionale come queste opere legate al alla cucina al focolare domestico alla polenta e al suo amato Trentino in cui sente la necessità di tornare dopo le fatiche di New York così come queste pubblicità per il gas la società nazionale gasometri che contiene appunto è un déplian che contiene anche delle ricette di cui abbiamo le prove grafiche originali continua De Pero a celebrare esaltare il lirismo enologico quindi il vino anche negli anni trenta pubblicando queste liriche in riviste degli anni trentine e non è un dialogo che è tra bocche che assaggiano vini diversi ecco qui si può vedere come progressivamente negli anni trenta il colore in grosso modo si spegne e anche le forme diventano forse meno innovative ma comunque ancora efficaci dal punto di vista pubblicitario lavora sempre questo elemento dell'uva molto ricorrente anche la festa dell'uva di Rovereto questo grappolo d'uva stilizzato e poi nelle decorazioni degli anni trenta tra cui il Vibi Bar vino birra bar di Bolzano degli amici Cavazzani titolari di questa azienda vinicola e proprietario di questo locale a Bolzano decorato da De Pero con delle tarsie ancora di panno appunto create dalla casa d'arte negli anni trenta per la quale realizza un'infinità di pubblicità di cantine della cantina Cavazzani accanto parallelamente a questa vedete prodotti cioè soluzioni simili per prodotti diversi e poi di nuovo il Buxus attraverso il Buxus celebra il cibo italiano le delizie mediterranee per attraverso l'Enit che in qualche modo pubblicizza la cultura italiana nei paesi europei oppure per la bottega del vino di nuovo un locale dei Cavazzani in questo caso a Trento decorato completamente alle pareti e negli arredi da Buxus da De Piero di cui però si è perso tutto della Cavazzani arriva a pubblicizzare a creare anche il marchio e tutta una linea di prodotti il vino la grappa le etichette qui siamo già negli anni 50 e però vedete la la qualità e la quantità di prodotti che De Piero pubblicizza dal vino il moscato quindi un'immagine comunque coordinata per una ditta locale e poi sono svariate le pubblicità per in qualche modo aziende che producono o lavorano alimenti come la Marsilli l'opera pubblicitaria stiamo per finire questo percorso nel corso degli anni un'opera degli anni 50 inamovibile fissa che decora tuttora la casa d'arte futurista De Piero capisce che lavorando con le aziende che possono finanziare delle pubblicità fisse alle pareti può avere degli introiti per la manutenzione e per la dar vita al suo stesso per finanziare il suo museo e il mulino costa era una di queste aziende che aveva riservato uno spazio pubblicitario in una di queste pannelli che decorano la sala a Rovereto in casa d'arte futurista e qui una delle ultime foto di un De Piero anziano foto domestica forse anche un po' malinconica con la sua amata Cagnolina di nuovo in un momento legato al cibo il povero De Piero logoro dalle fatiche di una vita febbrile e a tavola con De Piero poteva essere il titolo da scegliere per questo intervento che però era già appariva già in uno degli ritagli stampa del fondo Crali amico di De Piero futurista che ripercorre anche questa esperienza di De Piero legata al cibo negli anni 80 quando il futurismo viene riscoperto e ho trovato questo articolo di giornale incollato sui suoi volume che costituiscono il suo archivio ecco di nuovo per tornare alla casa d'arte futurista De Piero una di queste sale che ancora vivono del segno di questo straordinario artista roveretano ormai celebre a livello internazionale sul quale il Mart ha realizzato curato da Nicoletta Boschiero una mostra straordinaria l'anno scorso De Piero New De Piero che aveva proprio basata focalizzata sull'ascito alla contemporaneità di questa esperienza d'artista al quale ancora tutt'oggi grafici pubblicitari artisti comunicatori si richiamano come ad esempio Gaetano K che così sintetizza in questo plastico la New York vissuta da De Piero alla quale ho in qualche modo rimandato in questi brani dedicati alla cucina questo era un percorso appunto pensato per la settimana della cucina legata a questa straordinaria figura di De Piero che ha ancora da dire molto nella contemporaneità finisco qui e vi ringrazio di 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 di